Domandiamo spesso come sono fatte le candele delle motociclette o delle macchine, quelle che montano appunto le candele. Allora, la differenza sostanziale a cui dobbiamo fare molta attenzione è il filetto. Può essere un filetto lungo o un filetto corto. Quando montiamo una candela all'interno della nostra motocicletta dobbiamo fare moltissima attenzione al discorso filetto lungo e filetto corto. Questo perché? Perché ovviamente avendo un filetto lungo, se dovessimo montare un filetto corto, la candela andrebbe oltre la camera di scoppio e andrebbe a battere sul pistone. Per cui prima regola fondamentale è capire che tipo di filetto. Ovviamente anche lo spessore, oltre alla lunghezza, anche lo spessore è diverso tra una candela a filetto lungo e una candela a filetto corto. Questo lo vedete lo spessore che è completamente diverso. Per cui, prima regola, attenzione al filetto. Ovviamente ogni modello di motocicletta ha la propria candela. Va montata o appunto il filetto lungo o il filetto corto, questo ve lo può dire, o un esperto della motocicletta, oppure il libretto delle istruzioni. Altra caratteristica è la gradazione delle candele. Ci sono candele più fredde e candele invece più calde. Lo potete sempre e comunque verificare sulla vostra candela con i codici. Vedete se è una candela fredda o una candela invece calda. Altro particolare che in questo caso facciamo notare è la presenza o meno di questo piccolo inserto che va avvitato su questo filetto. Ci sono alcune pipette delle candele che vanno inserite direttamente sul filetto, altre invece che necessitano, magari con una forcellina, l'inserimento all'interno di questo piccolo inserto. Adesso vediamo di metterlo a fuoco. Questo in ogni confezione di candela trovate questo piccolo inserto da avvitare su questo filetto. Ultimo aspetto però fondamentale che notate è questa cosa qui, ossia la presenza della ceramica o comunque di questo materiale sotto al filetto oppure questo che invece non sova. Spesso nelle moto d'epoca, spesso nelle moto d'epoca vanno montate queste candele in cui la ceramica o il materiale non avanza fuori dal filetto. Per cui qui vediamo che il nostro stoppino della candela esce direttamente dal filetto poco fuori, mentre in questo caso c'è un pezzo di ceramica. Fate moltissima attenzione quando montate le candele all'interno del cilindro se vanno inserite queste candele o queste candele. Il problema di questa candela è che il pistone salendo va a sbattere contro questa parte qui perché è troppo lunga e non è adatta al nostro tipo di pistone o comunque di cilindro e di motore. Per cui attenzione, spesso nelle moto d'epoca vanno questa tipologia di filetto, di stoppino, mentre in altre moto, soprattutto le più recenti o in macchine, va questa tipologia.